Il ragazzo ha chiesto perdono. Sul movente cosa ha detto? Non ha risposto sul movente. Non si capacita di aver fatto questo gesto così grave, eclatante, perché è stato sempre una persona che ha fatto del bene, ha aiutato gli altri. Non è riuscito a dare una spiegazione. Perché è salito in quell'appartamento? Ho detto che è entrato per il fumo, doveva andare a prendere del fumo quant'altro. Per la vittima cosa ha detto? Cos'ha detto in particolare? È affranto, ha chiesto scusa, come in questi casi. È ancora affranto, ha bisogno di un sostegno. Gli ho fatto presente ancora a Gildi, che ha bisogno e necessità di un psicologo. Ma si conoscevano bene i due? No, no, di vista e basta. La situazione gli è sfuggita di mano. C'è un movente sessuale? No, no, lo escludo. Non c'è un movente, quindi? Anche lui non ha spiegato chiaramente. E secondo me è talmente confuso, non riesce a prendere fuoco. È anche difficile da parte nostra spiegare. Ci sono in corso delle indagini e poi, se ci sarà il processo, valuterà lui se riuscirà a metabolizzare, a razionalizzare, a esternare. Solo per capire il perché. Sì, no, ma la cosa è più facile di come sembra. Per me è un caso di psicoanalisi. Freud è capito. Quando verrà preso in consegno al psicologo vedrà.